A Modena si è fatto il punto su questa importante battaglia delle Camere Penali, la separazione delle carriere. Siamo con il Presidente della Camera Penale di Modena, l'Avvocato Guido Sola e un commento su come si è impegnata la Camera Penale locale per questa raccolta firme che ha avuto un primo importante successo, il deposito in Parlamento di 61.000 firme. Sì, devo dire che il risultato raggiunto dalla Camera Penale di Modena, lo dico con serenità perché il merito non è mio ma del mio Consiglio Direttivo e di coloro che col Consiglio Direttivo si sono impegnati nel tempo perché questo risultato fosse possibile, è stato un risultato straordinario, nel senso che come si diceva oggi la Camera Penale di Modena è risultata essere la quarta Camera Penale in Italia e la prima Camera Penale in Emilia-Romagna per numero di firme raggiunte, siamo riusciti a raggiungere il ragguardevole numero di 2.727 firme raccolte, cosa che ci stava particolarmente a cuore anche perché come si diceva oggi ci ha dato la possibilità di stare tra la gente, con la gente, nelle strade, nelle piazze a parlare sì di separazione delle carriere ma anche di giusto processo e di cultura della legalità e quindi dei valori propri della nostra Camera Penale e dell'Unione delle Camere Penali italiane. Grazie al Presidente della Camera Penale di Modena. Grazie a voi.